Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera E per quanto la stagione invernale sia ancora lunga L'inaugurazione del Corova, il format del Clubhouse pensato per il pubblico giovane del sabato sera Fa ben sperare per una riconferma del successo del noto locale salicese Centinaia di persone, con netta prevalenza delle giovanissime Hanno dato il caloroso benvenuto all'ospite della serata Quella Andrea Damante che su Instagram può vantare oltre un milione di follower E che grazie a qualche azzeccata esperienza televisiva Si è trasformato in un vero e proprio idolo per milioni di teenager italiani Divenuto celebre grazie alla partecipazione nel programma televisivo Temptation Island Ha ottenuto la grande popolarità nel ruolo di tronista nel programma Uomini e Donne Ed è proprio nel dating show di Maria De Filippi che Andrea ha conosciuto Giulia Delellis Con la quale ha intrapreso una relazione sentimentale Che ha riempito le pagine dei giornali di gossip degli ultimi mesi Un fidanzamento è loro che è entrato nel cuore del pubblico del programma di Canale 5 Tanto che i fan hanno coniato per la coppia un soprannome che identifichi entrambi I Damellis Ma Andrea non è solo un extronista, modello, fashion influencer Con la sua recente partecipazione al grande fratello VIP Ha significativamente incrementato la sua fama Anche grazie alla telenovela con Asia, la figlia di Antonella Mosetti Anch'essa concorrente all'interno della casa più spiata d'Italia Il post Big Brother per Andrea all'insegna della musica Damante è infatti impegnato nella promozione del suo nuovo singolo da DJ Intitolato Shine On Me Di cui vi facciamo ascoltare un frammento Come documentato dalle telecamere di Occhio Pavese Presente in esclusiva al Clubhouse di Salice Terme Andrea Damante si è concesso con molta simpatia e disponibilità a tutti i fans presenti Scattando con loro centinaia di selfie per la gioia del suo pubblico E c'è chi già attende l'arrivo a Salice Terme della fidanzata Giulia De Lellis Attesa al Corova di Salice Terme nelle prossime settimane Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spotchiocciolaocchiopavese.it Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese